ok tu francesco sei riuscito a farlo no ma ci avete provato almeno mi sono dedicato una cosa per l'altro per l'altro per l'altra parte per l'altra sì ok ragazzi questo questo seminario è totalmente extra e lo facciamo perché siamo convinti che non serva per saper parlare italiano serve da saper parlare il latino ma io non vedo che insieme a fare cose tipo oscillatori quindi mi interessa ma allora se volete passiamo direttamente agli scellatori e non è che per me mi avete chiesto voi di fare questa cosa della libreria apposta perché in modo che così almeno ci arriviamo tutti quanti ok c'è l'oscillatore incidentalmente c'è già potremmo metterci lì a perché l'avevo fatto col vecchio corso con lo vecchio seminario e potremmo metterci lì ad analizzare come è fatto e andare avanti su quello invece di fare però per me va benissimo qualsiasi cosa in realtà tutto serve quindi decidete voi quando volete passiamo a fare l'oscillatore ok allora c'è del codice da vedere oppure no sì allora premetto che è un po una cagata perché non so neanche se potevano essere scritti così i numeri decimali del codice a sì che possono essere scritti così possono essere scritti così però non ti conviene cioè non ti conviene perché non è tanto leggibile questo codice adesso poi ti dico come si fa però comunque allora quello che tu fai qui è analizzi la stringa sostanzialmente 48 che cos'è scusa che non me lo ricordo è 0? 48 è dallo 0 fino a 57 che è 9 ok allora aspetta tu stai dicendo allora mettici mettici i caratteri propriamente puoi mettere tra apici singoli mettici lo 0 non backslash 0 ma 0 backslash 0 è no no 0 0 e 57 è 9 mettici proprio così così si capisce molto meglio ho capito no oh e adesso non si può fare così questo te lo passa il gcc perché però nel nel c la dichiarazione la devi fare fuori dal foro non lo puoi fare così non lo puoi fare così e perché lo fai così cioè che cosa fai qua faccio che presente se x è momento in cui è come se facessi tipo questo ciclo foro lo faccio per tutte queste volte in modo che parte da x che è 48 e dico che se questo è equivale a x cioè 48 inserisce sì ho capito ho capito quello che fai questo qua l'interno di questa array poi volevo inserire per fare sì che poi capito il risultato potesse essere l'unione di diversi numeri con le cifre in cui capito facevo il conto poi dei numeri che cioè delle caselle occupate dall'array e quindi occupavo in una cosa tipo decimale e quindi il primo se ci fossero stati 4 sarebbe stato Q0 per esempio come so è 7 7 per 10 alla quarta appunto sì questo mi è chiaro ma scusa non c'è bisogno di fare tutto questo fai il numero è semplicemente il carattere meno il carattere zero un carattere eh? è vero no? allora scusa vai un po' più sotto un po' più sotto poi non basta fare questo eh no non dovevo cercare di mettere questa cosa qua però non riuscivo non capivo dove dovevo inserirlo no allora scusa ricominciamo da capo eh va bene questo beh questo non fa niente di quello che abbiamo detto no? eh non sono riuscito a finirlo a fare in modo che che ti tirasse fuori i numeri Francesco tu hai fatto qualcosa di più? no dunque vi ricordate qual è la questione? noi dobbiamo guardare se c'è uno spazio un carattere spazio ok? se c'è un un carattere eh 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 cioè se c'è un punto se c'è un numero o se c'è un eh 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 ok? ok? allora cominciamo cominciamo col dire questo intanto facciamo facciamo una prima cosa eh allora ehm mettiamo un puntatore o no possiamo andare avanti anche con la stringa ma eh sì eh non c'è bisogno quello non ce n'è bisogno metti invece un puntatore const const car eh star pi uguale str così usiamo quello per andare avanti punto e virgola ok poi fai while asterisco pi diverso da zero questo leghiamo tutto però il while tienilo il while è giusto allora eh io io qua metterei un altro while dentro che salta tutti gli spazi ok fai while asterisco pi allora aspetta come lo facciamo? Lo facciamo uguale o diverso? non conviene farlo uguale allora while asterisco pi uguale uguale no uguale uguale la logica è eh apice apici spazio apici oppure aspetta che non è finita qua asterisco pi uguale apici uguale apici backslash t cioè il pub che altro spazio c'è? c'è il ritorno a capo che è considerato uno spazio oppure eh? max ascen sì asterisco pi uguale no pi singolo max ascen tra apici cosa deve fare? deve semplicemente fare più più p no ma senza non c'è bisogno delle graffe perché è una sola istruzione adesso qua c'è un problema il problema è che cosa succede se incontra il fine stringa perché noi stiamo in alto stiamo cercando il fine stringa ma questo lo potremmo per esempio se è una stringa vuota fatta tutta di spazi questa arriva al fine stringa quindi dobbiamo nel while metterci anche il fine stringa ah no no è diverso da fine stringa no scusami allora questi tre vanno messi tra parentesi prima lui fa questa logica qua se questo è uguale a questo oppure questo è uguale a questo oppure e ancora non siamo arrivati a fine stringa vai avanti però va messo fra parentesi prima va fatto tutti gli or e solo in seguito aspetta 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 dunque no forse va fatto il contrario prima va fatto il fine stringa asterisco p diverso da fine stringa è vero che replica il sopra però non c'è altro modo perché se noi andiamo avanti dentro sto while dobbiamo comunque riverificarlo no altrimenti la condizione di una stringa completamente vuota non la prende questa tra l'altro va messa nel scusami fai una cosa metti sotto nel main mettiamo una condizione di stringa completamente vuota perché questo è un test interessante basta che la ricopi ricopi quello e ti deve ovviamente ti deve venire uno zero questo comincia a rassomigliare a un file di test ok vuota mettici no non così mettici spazio backslash t backslash va bene così anche insomma ok questa pure deve funzionare non deve andare a sbattere ok ok e una volta che abbiamo saltato questo adesso che cosa dobbiamo guardare dobbiamo guardare che i nostri caratteri siano compresi tra allora siano la seguente categoria di caratteri compresi tra 0 tra 0 e 9 oppure il punto oppure e maiuscolo oppure e minuscolo ah più e meno anche no quindi sostanzialmente aspetta però perché il più e il meno allora converrebbe fare un'altra funzione per fare una cosa del genere ah ci sta Gabriele che sta andando in clinica a operarsi se lo è spostato di dirglielo ma che cazzo ma che c'ha Gabriele c'ha un problema al piede se non sbaglio qualcosa vabbè scusami sto infrangendo la privacy ok facciamo così facciamo un'altra funzione sopra in cui facciamo perché metterla tutta insieme qua è un gran viene fuori un gran bordello io farei una funzione sopra sopra simple atof in realtà questa funzione esiste già in libreria ma noi la rifacciamo int e la chiamiamo isdigit simple 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 isdigit aperta parentesi e lì passiamo un carattere cosa fa questa funzione semplicemente ci dice che se è un carattere che va bene oppure no ok se ritorna 1 vuol dire che va bene se ritorna 0 vuol dire allora facciamo le cose fatte bene metti in alto alla riga 5 metti 2 define hash define true tutto maiuscolo true tutto maiuscolo uguale cioè true 1 e false 0 vedete così vediamo anche a cosa servono le macro come è scritto false false ok allora adesso qua dobbiamo semplicemente vedere se se questo carattere è allora io farei no farei un valore di ritorno int int result e lo mettiamo subito a false uguale false no ok e poi facciamo if aperta parentesi if c mi sono un attimo dimenticato che cosa doveva fare questo e cosa doveva controllare ci deve dire se è un carattere che noi possiamo mettere al pizzo oppure no quindi compreso tra if c uguale uguale ah no sì scusami if c maggiore uguale a apici zero ampersand 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 cioè e se c è maggiore di zero e c è minore uguale a nove questa è la prima condizione mettila fra parentesi perché adesso ce ne stanno dell'altra però aspetta un attimo ma in realtà non dovrebbe essere true no se questa è quella condizione allora lo mettiamo uguale a true il problema vedi che è più è più cazzuto di così la questione perché per esempio ci potrebbero essere delle stringhe malformate cioè io non posso avere due volte il punto però se capita cosa devo fare io devo uscire cioè per me per me l'analisi del numero è finita capisci forse potremmo farlo partire addirittura da da 52 che vuol dire magari prende anche cose come per più o meno no allora guarda facciamolo ancora più semplice cioè allora questo analizza solo se allora qui ci sono vari tipi di caratteri che non avevamo ragionato su questo il carattere il carattere più il carattere meno possono esistere solo per la mantissa e per l'esponente no ma poi ce ne può essere uno solo e deve essere all'inizio ok il carattere il carattere e può esistere una volta sola il carattere punto può esistere una volta sola quindi una volta una volta comparso non non cioè va a far parte dei caratteri che non possono essere accettati ok quindi facciamo due funzioni diverse questa la teniamo così allora se un digit mi va benissimo e questo vai a capo e scrivi result uguale true punto e virgola e poi fai return result adesso ne facciamo un'altra che è int e questa la chiamiamo is single la usiamo solo solo per i caratteri che possono comparire una volta sola questa praticamente è quasi uguale a quell'altra salvo che l'if puoi ricopiare quello che c'è salvo che nell'if dobbiamo vedere per delle cose diverse però aspetta aspetta poi questa è come la chiamiamo questa che cambia no e poi dovremmo fare un'altra cosa per per il più e meno perché è un'altra cosa ancora allora questa è ricopia quello che dalla riga 9 alla riga 12 perché sono la stessa cosa non si fa ve l'ho già detto che non si fa però adesso se no ci mettiamo troppo tempo dovremmo fare una funzione generica allora qua l'if cambia no se se l'if qua è tutto diverso guarda cancella tutto quello che c'è dentro l'if perché l'idea qua è se allora cosa può essere un l'if può essere un punto if c uguale uguale dot apici punto apici oppure c uguale uguale e minuscola oppure c uguale uguale e maiuscola ok questo mi ritorna vero se no mi ritorna falso pure il trattino del più no aspetta eh no il il meno e il più in realtà non solo devono essere singoli ma devono essere all'inizio e subito dopo le eh che greve eh che greve quindi come possiamo farlo beh intanto intanto facciamo questo e e poi ce n'è un'altra di funzione che è sempre uguale che è plus or minus questo deve diventare false no questo se questo è uno di questi caratteri questa funzione qua ritorna vero altrimenti ritorna falso e poi simple is is plus or minus è sempre charc carc è sempre uguale solo che appunto questa ritorna vero solo se il carattere è un più o un meno adesso vediamo come usarle queste ma perché non si vogliono scrivere tutte nella stessa ma perché ci hanno perché perché si usano in maniera diversa e appunto non si possono chiamare tutte cioè il punto è adesso sotto andiamo alla funzione simpolo che cosa allora abbiamo guardato che non sia uno spazio e va bene quando arriva un carattere che non è uno spazio questo esce da questo while ok guarda converrebbe fare un'altra funzione perché pure questa è converrebbe fare la funzione is e of sempre int simple is e of and of no eol scusami is eol car c è sempre la stessa cosa se se è backstress zero deve dire vero perché adesso guarda cosa succede sotto sì ok guarda cosa succede sotto il while il while no alla riga 43 cominci col dire while simple is eol di asterisco p sì questo la potremmo fare con una scritta più corta perché ok oppure no così la logica è al contrario perché simple is eol fa uscire scusa invece di chiamarlo simple is eol che è troppo lungo chiamalo while no questo mi insegna anche a cercare i nomi giusti se noi la chiamiamo while not eol no 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 tu scrivi not eol solo la funzione si chiama not eol allora questa deve funzionare al contrario cioè il risulto deve essere vero aspetta basta mettere uguale in asterisco cioè uguale in potessi la madrivo perché not eol deve essere vera fino a quando il carattere ah no scusami while not eol deve essere ok sì se la facciamo così va bene ok perché così no no va bene così va bene così se perché quella funzione è vera se è not eol appunto ok e anche questo così puoi scrivere not eol perché adesso sto not eol lo dobbiamo verificare in continuazione ok e questo è uno adesso che cosa che cosa ci aspettiamo che capiti o un simbolo meno più sì cioè la questione è questa la questione è questa se non c'è nulla di tutto questo cioè se se noi incontriamo un simbolo che non è giusto dobbiamo uscire basta è finita la la ricerca ok possiamo fare if simple is plus or minus or minus e poi inserirci dentro un altro is plus simple is plus or minus e farlo uscire se ce ne sta un altro oppure se no continuare e vedere cosa no io farei se se è un simple or minus o un digit perché cosa può capitare può capitare se no ok allora andiamo avanti allora facciamo if simple if simple is plus or minus aperta parentesi asterisco p oppure simple is digit allora qua dobbiamo fare qualcosa adesso vedremo che cosa fare facciamo subito l'else dunque l'else è esci no ci può essere qualcos'altro no perché non si può cominciare con una e o si questo è da provare questo funziona così questo significa il numero che sta a sinistra moltiplicato per 10 alla meno 4 la mutazione matematica esponenziale no no vuol dire elevato alla meno 4 niente non cambia niente è solo che puoi usare entrambi ok non c'ha nessun significato il problema è vedere scusa tu ce l'hai la real atof perché facciamo una prova sulla real atof poi lo trasportiamo anche qua no 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 dovresti avere una funzione avevamo fatto un file che si chiama real atof sta in rete comunque perché c'è guarda c'è su github intendo si sta su github ma se vuoi te lo metto te lo metto qua te lo metto in chat l'altra volta l'abbiamo fatto te lo metto in chat ma tutti gli altri no non so giocare perché perché l'avrei potuta sfondare perché sei bravo no perché mi piacciono gli scacchi beh appunto quindi evidentemente se mi avresti potuto sfondare vuol dire che ti senti bravo ti senti di potermi però magari lei non era così forte quindi non ero bravo però ero più forte di lei uno bravo era Aldo Clementi eccolo te l'ho te l'ho mandata giuro per te contro i bambini di sei anni no scacchi in generale i giochi i giochi di carte no questo non è questo ok adesso fai un'altra fai un'altra funzione che eh ma non può funzionare perché è solo l'esponente quindi che numero fai un'altra chiamata proviamo proviamo fai copia queste tre righe e scrivi e alla terza no non alla meno tre alla tre e tre o più tre se lo elevi ha una potenza negativa scusa compiliamo per me non mi fa fare devi prendere un terminale l'ho preso non lo vedete voi no ah perché tu hai fatto lo share screen solo di quella finestra là devi fare lo share screen del desktop eccolo adesso lo vediamo ok no infatti fa zero sì non può uscire all'inizio subito ok quindi va bene come l'abbiamo fatto vai avanti allora se ok else allora dopo l'else alla riga 48 giulio giulio alla riga no alla riga 49 ci metti break allora break è un'altra keyword di c che forse non avete mai visto punto e virgo che serve semplicemente eh interrompi esce esce da questo loop ok bene allora adesso dimmi no che differenza no return esce da una funzione break esce da loop non dalla funzione diciamo il flusso del break continua dopo la dopo la graffa continua lì ok allora adesso vediamo che cosa deve succedere se abbiamo trovato un 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 più o un meno allora a questo punto no forse bisogna farlo può esserci solo un simple list digit else se no brecchiamo perché se ci sta questo non ha senso se ci sta pure questo non ha senso no più o meno ha senso no no perché noi abbiamo già messo intendo qua dentro possiamo fare no ma io 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 lo farei in un altro modo lo farei con un if if simple is plus or minus è un conto se è un digit è un altro quindi non lo farei lo farei con un else if questo mandalo a capo mandalo semplicemente a capo ecco qua scrivi else if e leva levalor ok allora allora io metterei guarda mettiti un un'altra dichiara un'altra variabile in alto che si chiama sign il segno int int sign e lo mettiamo uguale a 1 che in realtà dobbiamo invertire il segno solo se ok allora if sign e qua ci mettiamo che se è un più o un meno allora qua usiamo un nuovo operatore una roba che non avete visto fino adesso perché è un cosiddetto operatore ternario allora noi è scritto esle no else ok qua ci mettiamo un operatore ternario sign uguale e poi ci metti asterisco p spazio uguale uguale apici meno apici poi fuori no dentro la punta e virgola aspetta aspetta seguimi poi poi vedrai perché noi partiamo dall'idea che se non c'è niente è un più no allora no però devi mettermi il cursore prima del punto e virgola punto interrogativo spazio mettici uno spazio spazio meno uno aspetta 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 fammi finire fammelo fare tutto e poi dopo lo spazio due punti uno allora questo è un operatore ternario l'hanno inventato in c e significa questo la prima parte prima del punto interrogativo è una condizione ok se la condizione è vera ritorni la prima parte subito dopo il punto interrogativo se no ritorni la parte dopo il i due punti ah tipo un if è un if ma è un piccolo if che può essere solo binario praticamente ok questo serve a dire va bene se se il segno è un più o meno mettiamolo così ok se invece è un digit se invece è un digit allora mi serve un'altra variabile ancora no perché io posso aspetta un attimo perché io posso cominciare con un punto anche provalo un po' su Rialatos sì che posso cominciare con un punto certo no no non fare così scusa no no aspetta fermo aggiungi una condizione torna indietro fai undo facciamo un altro test cioè se no mi elimini i test mentre il test scritto è una roba preziosa fai punto 1 4 5 9 ma questo funziona sicuro sì ok va bene allora dobbiamo tenere in considerazione anche che potrebbe essere un punto così complicato era impensabile ma vedete che sembra una cavolata come dici cioè che più andiamo avanti nel costruirlo si presenta sempre un problema nuovo eh ma è così che funziona la maggior parte delle volte dunque allora qui ci vuole qui ci vuole un'altra variabile che è la variabile pow facciamo un'altra prova facciamo un'altra prova con Rialatov scusami vediamo se le potenze possono essere frazionarie mettici questo numero qua 3.1459 e no e tra l'altro con un e negativo qui verrebbe una potenza frazionaria vedrebbe un numero complesso eh proviamo frazionario positivo due punto no 1.414 che è radice di 2 ok no però aspetta un attimo eh facciamo che capiamo il risultato se è giusto mettiamo se io elevo 4 alla radice di 2 mi dovrebbe venire 2 allora fai non 3 1 4 5 9 ma 4 ok proviamo un attimo dunque 4 elevato alla radice di 2 no aspetta ma che sto dicendo aspetta un attimo 1 elevato alla dunque squirt di 2 è 1 4 1 4 allora 1 elevato a 1 punto 4 1 4 ah author mi dà un syntax error invece non si può fa 1 elevato a scorta di 2 aspetta questo non è elevato alla 1 mezzo infatti è elevato alla 1 mezzo aspetta 1 ho fatto 2 vedi che 4 aspetta 4 e 4 1 4 no 1 4 cazzo mi dà un syntax error però per esempio 4 elevato alla radice di 2 si può fare in octave e mi dà un risultato diverso da quello mi dice che è 7 ed è giusto perché se fosse elevato a 2 sarebbe 16 e quindi c'è un senso 40 non c'entra niente quindi per esempio mi sa che abbiamo trovato un bug di Atof vero perché è sbagliato quel risultato là però non so se è legale la stringa questo risultato qui è sbagliato non è giusto se non fosse legale dovrebbe scrivere sbagliato è 0 no perché Atof non dice se è vero o sbagliato se non riesce a convertire dovrebbe tornare 0 però lui evidentemente non intercetta questo problema e però fa un calcolo sbagliato interesting potremmo segnalarlo potremmo andare su GitHub e quanto ci danno? 10 anni di galera ci danno c'è l'altro non è mezzo l'altro si sento come dici? beh questo l'abbiamo intercettato adesso vabbè quindi possiamo farla qualunque non importa adesso torniamo al nostro dunque io sto pensando vabbè allora noi dobbiamo tenerci un un ok dobbiamo tenerci un ok facciamolo un passo alla volta facciamo int pow la potenza no pow p p o w doppio ma potrebbe essere tau mettila uguale a 1 1 1 ok adesso facciamo la parte di simplest digit perché questa poi ci chiarisce un po' allora se è un digit noi dobbiamo fare un paio di cose cioè dobbiamo fare che il nostro risultato è result più uguale risultato più uguale aperta parentesi risultato 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 asterisco p asterisco p meno il carattere zero no no dentro la parentesi no meno apici zero apici prima deve fare quell'operazione là e poi lo mette dentro il result mettilo sotto l'else metti le graffe perché dobbiamo fare varie cose cioè una volta che abbiamo beccato un digit dobbiamo fare questo no sì le graffe sono sono allineate sono allineate con l'else però poi bisogna fare che result lo moltiplichiamo no no scusami scusami pao scusami no 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 fermo alla riga 43 pao lo facciamo cominciare da zero non da uno sotto sotto alla riga 54 vabbè ci dovremmo fare un'altra funzione ma qua ci mettiamo result dobbiamo moltiplicarlo per potenze di 10 questo numero man mano che andiamo avanti moltiplicato adesso scrivi la funzione non ce l'abbiamo ancora ma la faremo my my underscore pao my underscore pao underscore 10 la mia potenza di 10 aperta parentesi e ci metti il numero pao ok adesso perché il numero lo devo moltiplicare per 10 ogni volta che ho un digit no aspetta se io per esempio ho 100 mi arriva l'1 l'1 la prima volta lo moltiplico per 10 no non c'è bisogno di tutto basta moltiplicarlo per 10 ogni volta no quindi perché la volta dopo quello sarà già 10 no quindi basta result per 10 per 10 no e poi dobbiamo incrementare pao a capo ah no 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 scusami no non c'è bisogno nemmeno di pao scusami stavo ragionando veramente no però aspetta 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 no perché non puoi non posso moltiplicare per 10 subito no levalo leva sta riga la dobbiamo mettere da un'altra parte e quindi puoi levare anche le le graffe eccetera eccetera no la riga 55 se ne deve andare ok sotto tutto sotto la riga 55 ma allineata con con tutto l'asse degli if ci devi mettere asterisco asterisco cioè più più p così se dimentichiamo di andare avanti col carattere no non qua no fuori dal break perché il break ci fa uscire prima della graffa tra il break e la graffa ci metti più più p no allineato così ok punto e virgolo questo questo ci fa andare avanti però qua ancora abbiamo fatto un po' di cose cioè se questo è questo se questo è un simple minus ok se è un digit ok adesso ci vuole se è un dot no perché può essere un punto quindi un if un altro if no no è sempre un else if no appunto in mezzo ci mettiamo un altro else if perché possiamo avere possiamo comunque averlo all'inizio sì però è allineato in un altro modo ma insomma simple is dot no ah simple is single ma cazzo dunque perché la e non la possiamo avere all'inizio no vabbè mettiamo un secondo tolgo questi qua e li metto in un altro no allora fai no questo non chiamarlo simple is single chiamalo simple is exp e leviamo il dot il dot lo facciamo a parte tanto non conviene fare una funzione no 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 non conviene è solo il punto quindi non è che else no else asterisco p uguale uguale dot no ma è solo sì ok cosa deve succedere se se io incontro un punto io devo pensare che la parte intera è finita no e che quindi da là le cose si muovono al contrario cioè io fino a là sono andato avanti per potenze di 10 da là devo andare avanti per potenze di meno 10 no per potenze negative di 10 o no cioè io c'ho 3 ok però devo moltiplicare il numero dunque io devo quello lo posso fare crescendo mentre invece la parte dopo la virgola la devo fare dividendo però devo dividere il numero mi sa che devo farle separatamente cioè se io incontro il punto devo mettermi un flag lo farei così mettimi scrivi qua scrivi dot no 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 proprio la parola dot che sarà una variabile dot uguale true no 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 la devi dichiarare sopra non la puoi dichiarare qua vabbè ho capito fai int sign dot uguale false no mettilo false e dot uguale true adesso dentro l'if dentro l'if del simplest digit cioè dobbiamo risolvere questo problema dell'elevazione a potenza e il problema dell'elevazione a potenza si risolve così no rimettiamo una variabile pow no aspetta 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 sì, rimettiamo una variabile pau uguale 0 punto e virgola ok, adesso dentro Simpolis Digit no, no, scusami dentro la riga 54 cioè lì devi aprire di nuovo le graffe, scusami ma questi algoritmi si fanno meglio facendo il diagramma di flusso ma tanto non si capisce niente nemmeno su quello allora adesso questo lo dobbiamo moltiplicare dobbiamo moltiplicare il risultato per la potenza di 10 quindi facciamo quello che stavamo facendo result moltiplicato uguale result è scritto male no, non si può fare no, 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 no deve essere fatto my a fare che? no, c'è stava a sto cazzo continua Allora, scrivi mypau10, mypau underscore 10, ce la dobbiamo fare sta funzione, c'è niente da fare. 10, aperta parentesi, pau. Perché qua se pau è 0, vogliamo scrivere subito la funzione mypau10? E qui ci metti int p, x, va bene. Allora qua ci metti int resalt 1. E poi qua fai while. Come lo facciamo? While x vai a capo, apri una graffa. Resalt moltiplicato 10. Lasciamo while x. Sì, questo quando è 0 esce. Resalt moltiplicato uguale 10. Punto e virgola. Aspetta, seguimi. Vai a capo. meno meno x. Questo il problema è che se per caso x è negativo, questo va in vacca. Però facciamo che siccome la usiamo noi qua, perché bisognerebbe verificare che x è positivo. Quanta roba c'è sta da mettere a posto. Eh, 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 ragazzi, programmare significa questo, eh, non è che, mica, se vi siete già stufati andiamo... Eh, allora, eh, fai... Che? Niente. Fai return sotto alla riga 16, scrivi return result. Punto e virgola. Questo, appunto, questo ce lo usiamo noi in casa, anzi... Sì, sì, queste funzioni andrebbero fatte tutte statiche, va bene, ma questo facciamo un'altra volta. Vai a capo, vai in fondo. Allora, questo fa la potenza di 10, spero. Ok, questo va moltiplicato così. Ma... Ma questa cosa va fatta solo se il... non abbiamo incontrato un dot. No? Perché altrimenti va fatta al contrario. Ecco là che ci serve pure la potenza negativa. Allora, aspetta, aspetta. Allora, facciamo... Vai sopra alla riga 67. Inizio riga o finito? No. Guarda, facciamo un'altra cosa. Allora, alla riga 67 mettiamoci il valore di... Mettiamoci int. Questo si può dichiarare perché siamo inizio blocco. Int x è uguale a asterisco p meno 0. Quello lì. Asterisco p meno il carattere 0. punta e virgola. Poi aspetta, sì ma non è così ancora. Dobbiamo... Sì, sì, sarà così ma non... Allora, adesso qua ci dobbiamo mettere un altro x. Qua? Sì. perché se abbiamo già visto un punto if dot uguale uguale a true Allora, dobbiamo procedere in un altro modo. Dobbiamo fare... Anche qui devi aprire delle graffe. Le graffe sono allineate con l'if, ma va bene. Dunque, se abbiamo visto un punto, noi dobbiamo fare che invertiamo l'andamento della potenza. cioè invece di moltiplicare per 10 moltiplichiamo per un decimo. No? No, 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 no. If dot bla 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 No, ma lo stiamo facendo stupido. perché Allora, se abbiamo già incontrato un punto, qui dobbiamo scrivere x moltiplicato uguale, però x che cos'è qua? È un intero? No, scusami, deve essere un double. Moltiplicato uguale, come si chiamava? Mai Pao, Mai Pao 10, moltiplicato meno... No, facciamolo sempre moltiplicato Pao, perché poi dovremmo invertire l'andamento delle potenze. Il punto è che quando incontriamo... Adesso vai sotto, subito sotto, la riga subito sotto, e qua dobbiamo fare che Pao... Pao meno uguale... Pao meno uguale a 1. Cioè devo andare avanti in negativo, no? Allora, qua ci va un else, perché se io ho già incontrato un punto, se io ho già incontrato un punto, devo andare avanti... Ah, no, scusami, e poi sotto ancora, questo potrebbe stare veramente anche prima, però result più uguale a x. No? Cioè io lo aggiungo al mio risultato, questo numero, però qui io devo andare con potenze negative. Dobbiamo cambiare la funzione Mai Pao, perché così non funzionerà. Ok? Vabbè, vabbè, la cambiamo dopo. Ricordiamoci che dobbiamo cambiarla. Finiamo il ragionamento qua. E questo conclude se abbiamo incontrato un punto. Vai sopra. No, scusami, leva quella riga 73, perché adesso dobbiamo mettere un else. Cioè, se non abbiamo incontrato un punto, invece dobbiamo fare quello che c'è scritto subito sotto, però mettilo fra grappe. Fra graffe. Dunque, il result mettilo più uguale a x. Ah no! Aspetta, aspetta, aspetta. Non è x. Non è x. x è quello. Sì, sì, più uguale a x. Più uguale a x. No, no, va bene, va bene, è giusto. Ok. Adesso però, l'else, l'80, l'else if p è uguale a dot, va bene solo se non l'abbiamo ancora incontrato. Cioè, if asterisco p uguale a dot, and, ampersand, ampersand. dot uguale uguale a false. No? Perché se no, questo if non va affatto. Chiaro? Ok, adesso dobbiamo correggere la funzione myPow e poi dovremmo esserci. Allora, la funzione myPow com'è? La funzione myPow, se io li mando dentro un numero positivo, lui me lo moltiplica per 10 e lo e lo incrementa. se io li mando 0 non fa niente, se io li mando un numero negativo, per cui dobbiamo mettere un if dentro la dentro il while. Perché è if x è maggiore di 0 fa quello che sta facendo, però lo devi mettere fra graffe. no, maggiore. Lo devi mettere fra graffe. Dunque, qui noi andiamo al contrario con x. Va bene, chiudimi sta graffa. no, ci vuole un'altra graffa. Eh sì, sì. else, 0 non può essere, per cui per forza, perché 0 non entrerebbe nel while. else, sei dislessico, Giulio? Hai problemi di dislessia? Non so perché lo sbaglio sempre. Ok, else, result, allora, scusami, mypow non può ritornare un int, deve ritornare un double e result deve essere un double perché siccome dobbiamo avere numeri anche sotto 0, no, no, alla riga 10, result deve essere un double. Ok, adesso, sì. Ok, qua noi dobbiamo tendere a 0, però se noi ci arrivano sono sempre in dunque, il primo numero dopo la virgola è scusa, dopo facciamo il ragionamento, apri la graffa qua e fai result diviso uguale a 10. 10, mettici, vabbè, dovrebbe funzionare. scusa, il risalto non è allineato bene. Ancora? Ok. Adesso, cosa deve fare x? x deve ah, ma non importa, x deve crescere più più x. No, più più x. perché se è negativo io devo dividere, sì, è giusto, deve crescere. È chiaro? Cioè, se io ci metto un numero positivo, moltiplico per 10 e diminuisco la x in modo da arrivare a 0. Cioè, prima o poi deve chiudere sto my power. No? Se io ci metto un numero negativo, aumenta. A un certo punto entrambi vanno a 0. Sì, adesso vediamo se riusciamo a usarlo anche per sotto, perché qua non è finita la faccenda. Salva, eh, sempre. Vai sotto? Perché adesso dobbiamo gestire la E. La E non l'abbiamo gestita. Allora, abbiamo fatto il caso, abbiamo simple exp, no? Allora, se è un digit è questo, se è una E, che cosa deve fare? Dobbiamo continuare a leggere dopo la E e poi tutto il numero che viene fuori dopo la E va, va, va va moltiplicato per 10, cioè diventa, va dentro il my my power 10 e va moltiplicato il numero risultante, va moltiplicato per il risultato. Ok. Quindi, io farei una cosa. Perché questa funzione qua, vedi, questa parte qua che sta dentro il simple is digit andrà usata un paio di volte, prima della E e dopo la E quindi io me la metterei separata questa funzione dalla riga no, dalla riga 75 alla riga 86 mi ci costruisco un'altra funzione questa la la tagli da qua no eh no no non hai fatto bene no c'è una graffa di no ti manca la graffa della riga 86 ok adesso qua ti scrivo una funzione che è double manage digit a questa gli passi risolto perché gli passi si gli devi passare aspetta un attimo gli devi passare sì gli devi passare sia il risultato double result e poi gli devi passare virgola int oppure no car c no perché noi noi riceviamo un carattere e qui come funziona la cosa di passare per valore o per argomento eh gli passiamo per valore ma va benissimo valore è certo gli passiamo il valore perché adesso tu scrivi car c adesso lì scrivi c meno zero invece che asterisco p ok qua ci manca la questione del dot ah sì aspetta aspetta perché gli dobbiamo passare anche il dot no gli dobbiamo passare tutto se no non allora int dot manca no aspetta ci manca anche il segno ci manca un sacco di roba int praticamente tutto gli dobbiamo passare int sign vedi qua qua varrebbe la pena quasi di fare una struttura dati non lo stiamo usando ma stiamo facendo male a non usarlo perché int sign perché allora se è un digit però il sign non bisogna usarlo sempre perché se io moltiplico troppe volte per il segno o poi cambio segno qui tu dici if simple is digit manage digit ok e ci metti result asterisco p dot e pow aspetta un attimo prima di mettere il segno aspetta un attimo perché il segno il segno secondo me va fatto alla fine perché va fatto una volta sola il segno e però metti result uguale manage digit non è allineato bene con le grazie sì non è allineato bene non sta ben più ok ok però qua ancora non abbiamo fatto un'altra cosa perché noi qua dobbiamo ancora fare l'esponente cioè qua stiamo facendo la parte della mantissa non è strutturata bene sta cosa perché la cosa più logica che mi vennebbe da fare è se cioè fare due funzioni manage mantissa e manage exponent no così ciò il risultato della parte mantissa è il risultato della parte esponente ecco però manage mantissa è fatto è fatto direttamente gli passo la p e dopo c'ho tutta questa roba ce l'ho dentro qua no 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 sì chart star p o no const chart star stringa no no gli passo proprio tutta la stringa e ritorna un double e poi ce n'hai un'altra di funzione definiamola subito che si chiama manage exponent sono già le 10 e 36 vorrei perché in realtà questa si potrebbe fare carina si potrebbe fare con un puntatore a funzione quando incontro la E cambio 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 puntatore a funzione capite? passo da manage mantissa all'inizio comincio con manage mantissa e allora abbozziamola facciamola appena abbozzata poi dopo la faremo bene la prossima volta ok giusto per ricordarci come come va fatta scusa fai una cosa segniamoci per la prossima volta sopra la riga 59 metti un commento sopra mettici un commento metti da cambiare oppure di solito questi si segnano così queste cose fix me scrivi fix me tutto maiuscolo no è tutto attaccato questo è lo standard due punti cambiare per accogliere manage mantissa e manage exponent cioè manage mantissa e manage exponent useranno manage digit ma per fare questo bisogna bisogna cambiare un po' di roba ok va bene l'ultima cosa mettiamo facciamo solo un'ultima cosa di dichiarare un puntatore a funzione sotto alla riga sotto alla riga 92 dichiariamo una variabile che si chiama handler che è allora si fa così no sì però la dichiarazione è double aperta parentesi asterisco handler chiusa parentesi aperta parentesi const char star puntatore no anche senza niente non c'è bisogno perché questo non viene usato qua e poi fai uguale lo inizializziamo con manage underscore mantissa cioè lui all'inizio fa manage mantissa no 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 non manage mantissa no 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 è solo il puntatore è il nome ok quindi lui all'inizio invece di fare manage manage digit vabbè però qua dovremmo cambiare tutto quindi perché in realtà sì sì no la dobbiamo fare in una maniera diversa ancora vabbè dobbiamo passargli il puntatore al risultato sennò qua non non ne usciamo vivi va bene dai interrompiamo qua sennò spendiamo tutto sì appunto facciamo salviamolo un attimo facciamo così eh vi la mando al volo sì e io la commenterò prima di metterla su github in maniera che ci ricordiamo che cosa dobbiamo fare ok perché altrimenti ce la ritroviamo che non sappiamo ma sì aspetta eh pa 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 eh diciannove oggi siamo pensavate che era facile no va bene chiudo chiudiamo la registrazione no 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 no